e mi sono voluto, visto che mi hanno detto guarda vai sul palco dell'Ariston, mi sono voluto proprio concentrare sui cantanti e ho notato delle particolarità, i cantanti italiani ne conosciamo tantissimi, sono bravissimi, tutti quanti bravissimi ma mia cara Giorgia hanno tutti quanti una particolarità che li rende unici per delle problematiche che hanno quando cantano alcuni proprio dalle difficoltà che hanno tirano fuori il loro talento, per esempio il primo che mi viene in mente Tiziano Ferro tutti quanti conosciamo Tiziano Ferro? Tiziano Ferro sembra che gli si sganci il microfono ogni tanto quando canta quindi le parole non è che si capiscano tutte, tutte, tutte perfettamente poi quando si prepara ricorderò e comunque e so che non vorrai ti chiamerò tanto non risponderai come fa male pensarti guardarti poco è nell'ansia che ti perdo non ha foto perché piccola potresti andartene e mani e di orni da lontani saranno o anni e ti sorderai di me cioè Tiziano Ferro però poi Fabio Concato no Fabio eh uno fa Fabio Concato Fabio Concato anche tu Giovanni se facci caso sembra che abbia sempre a che fare con le zanzare o comunque con qualcosa prendiamo una delle sue più famose domenica ti porterò sul lago vedrai sarà più forte dirsi Dio faremo un giro in barca andremo anche a pescare fingere di essere sul mare ma che domenica bestiale la domenica con te incredibile da nasale a nasale Ramazzotti però Ramazzotti è un po' conosciuto il problema perché ha l'influenza quindi quando canta ha proprio il raffreddore quindi ma lo si vede già dallo sguardo ha proprio lo sguardo tipico di chi prende la tachipirina e poi parte però poi quando canta ha problemi di raffreddore non chiedi libertà lo sai non sono io incatenarti qua il sentimento già libero da un sé ma tu chi sei ci credi che non lo so dire un angelo disteso al sole anche è caduto qua cioè incredibile dai problemi di raffreddore a quelli di stomaco c'è chi li ha Renga quando lo vedete non è che soffra solo per l'interpretazione del testo soffre un'altra immagine di te un nuovo modo di vedere le cose ecco una che non sai ecco il mio modo di parlarti d'amore d'amore giusy ferreri che è sulla stessa stregua però lei proprio deve andare in bagno non ti scordare mai di me di ogni mia abitudine in fondo siamo stati insieme devo solo andare in bagno grazie poi c'è chi la particolarità se la porta anche a casa Giuliano San Giorgi cantante di Gramaro lui utilizza abusa del falsetto abusa non utilizza quindi quanto manca la canzone è minuti solo tre minuti per fidarti di me e non si basteranno ricoprirti di bugie come se il problema è che quando va in panetteria questo famoso che cosa vuole? vorrei tretti di pane va al bar prendo un caffè macchiato ho trovato parcheggio dove ho messo la macchina pensate quando va a fare l'esame del sangue adesso la buchiamo ti prego incredibile questa cosa